Piero Buono, direttore generale di Goods, allora quanto sono importanti eventi come Meet Italian Brands e quali sono le caratteristiche distintive della vostra società, della vostra produzione? Sicuramente sono importanti questi eventi perché raccontano l'eccellenza campana che generalmente è fondamentale che faccia sistema e quindi raccontare un brand anche come il nostro, un brand legato agli occhiali quindi che generalmente partecipano solo ad eventi dedicati all'ottica invece in questo momento ci piace raccontare il nostro brand insieme ad altri che raccontano un po' la storicità del manifatturiero napoletano campano Sì, diciamo che noi ci siamo posti subito sul mercato con una serie di elementi intanto siamo un brand etico perché lavoriamo solo nella città di bio sono in edizione limitata, abbiamo scelto il numero da 1 a 90 per la smorfia per raccontare la nostra napoletanità e forse per la prima volta al mondo siamo un progetto dell'anima giochiamo con questa parola perché le nostre anime degli occhiali sono tutte lavorate a mano e sono la riproduzione in scala in una parte di collezioni di facciate di chiese napoletane e quindi da lì iniziamo un viaggio attraverso l'architettura italiana quindi raccontando la ricerca del Made in Italy partendo dalla nostra origine e ogni volta che lanciamo una nuova collezione prendiamo un pezzo di cultura sempre italiana ma partendo dalle origini nostre napoletane per iniziare un viaggio ora nell'architettura, domani nella scrittura e dopodomani nella saltoria sempre attraverso l'anima perché l'anima è la cosa più importante di noi grazie grazie Grazie.